Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata. Abbiamo il piacere di avere come ospite il nostro socio Stefano Bergonzini che ci tratterà l'argomento il ruolo della Polizia di stabilità nato nella tutela del patrimonio culturale. Lascio un attimo la parola al nostro Presidente Nazionale Mercolandi, cari saluti. Buonasera a tutti, come sempre sono sempre molto contento della possibilità che ci danno a questi webinar di sentirti a distanza. Questa sera abbiamo come ospite Stefano Bergonzini, ho avuto qualche minuto di tempo prima di scambiare un po' di parole, non vi anticipo niente, come sempre passiamo subito all'autopresentazione del nostro relatore, ci sentiremo dopo. L'intervento sarà diviso in due parti, così potremmo cominciare a fare qualche domanda a metà di intervento tra una mezz'ora e 45 minuti. Bene, Stefano ti passo la parola, buona serata. Buonasera a tutti, ringrazio la Società Italiana Protezione e Beni Culturali che dà questa occasione di fare una chiacchierata e di presentare un argomento che mi appassiona molto e magari anche condivido alcune esperienze che in 30 anni di carriera nell'arma dei carabinieri sono riuscito a collezionare. Sono da qualche anno membro della Società Italiana Protezione e Beni Culturali e faccio parte anche dell'associazione SOS Archivi di cui vi accenderò brevemente più avanti. La nostra chiacchierata sarà grossomodo strutturata in questo modo, l'introduzione l'abbiamo fatta, parliamo di SOS Archivi, parliamo di cosa sono i centri di eccellenza della Nato, vediamo che cos'è lo Stability Policing, la Polizia di Stabilità. Parleremo brevemente, forse con una prospettiva diversa dal solito, dell'importanza della tutela del patrimonio culturale e poi del patrimonio culturale. Penso poi faremo una breve interruzione se c'è forse qualche domanda. Poi continueremo con degli accenni al quadro normativo, le minacce al patrimonio culturale, che cosa la Polizia di Stabilità può fare nella tutela del patrimonio culturale, alcune delle sfide maggiori e poi un breve riassunto e un'ultima sessione di domande e risposte. Molto brevemente, che cos'è SOS Archivi? È un onlus che è non profit, raccoglie professionisti del settore archivistico per promuovere la cultura della prevenzione e per la gestione delle emergenze. Organizza eventi di vario livello, dalla giornata con un'esposizione teorica prima e poi una fase pratica su come intervenire in archivi nel caso fossero esposti a degli eventi catastrofici, a delle camità, a delle rotture di tubi. Recentemente stiamo espandendo il nostro campo di azione con attività anche più approfondite, più ad ampio raggio, partecipando a progetti europei di formazione. Qui ci sono brevemente i contatti per SOS Archivi, casomai qualcuno fosse interessato è comunque facile trovarla sul web. Centro di eccellenza Nato e in lo specifico il Centro di eccellenza della Nato per la Polizia di Stabilità. Nel 2010 i rappresentanti dei governi dei paesi della Nato sono resi conto che in un'epoca di bilanci sempre più ridotti non aveva senso continuare con tutti i paesi a occuparsi di tutti i temi di ricerca e di sviluppo. Una delle idee che sono nate è la smart defense, ovvero proporre a alcuni paesi che hanno delle capacità, delle esperienze particolari di svilupparle in maniera più approfondita e mettere poi questi prodotti a disposizione dell'Alleanza. Se vogliamo vedere l'esempio del centro di cui faccio parte io che ha sede a Vicenza, diciamo che il paese Nato, nel nostro caso l'Italia, si rivolge a uno dei due comandi strategici della Nato, ovvero il comando per la trasformazione, quindi non operazioni condotte a fare cose, ma trasformazione, ricerca e sviluppo, dottrina, terminologia. Dice noi italiani pensiamo di avere una vasta esperienza sull'intervento di polizia in aree di crisi, vorremmo mettere questa nostra esperienza a disposizione dell'Alleanza. Il comando di Norfolk della trasformazione dice benissimo possiamo pensare a questo centro di eccellenza della Nato, la prima cosa che vogliamo fare dobbiamo coordinare e verificare due fattori, uno che l'argomento sia di interesse per la Nato, era sicuramente interesse, secondo che non ci sia già un altro centro di eccellenza che si occupi di questa cosa. Questo controllo, questa verifica ha avuto successo, dice la Nato è sicura che l'Italia è interessata, sia interessata a questo argomento per tre fattori, primo perché mette a disposizione le strutture e le infrastrutture, secondo perché mette a disposizione dei fondi dedicati e non facenti parte dei fondi comuni della Nato e terzo perché investe anche in risorse sotto forma di personale specializzato esperto in questo campo. Si avvia un processo di verifica che si è concluso nel nostro caso con l'accreditamento ovvero la certificazione che questa struttura, questo personale fosse in grado di lavorare e di inserirsi bene nell'ambiente della Nato. Un ultimo elemento mancante è il cosiddetto steering committee, il comitato di gestione che ha la guida e che approva anche il piano di lavoro del centro di eccellenza, decide che cosa viene fatto e soprattutto si impegna a che i diversi stati paghino, contribuiscano con i fondi. È importante sottolineare che i centri di eccellenza non fanno parte della Nato, per essere precisi dovremmo dire che sono centri di eccellenza accreditati in atto, quindi la Nato non ci può imporre che cosa fare, però diciamo che è il nostro maggiore cliente. Questa è una fotografia della caserma generale Chinotto a Vicenza, dove mi trovo in questo momento. Il primo istituto che ci interessa questa sera ad avere sede in questa caserma è il COESPU, Centro di Eccellenza per le Stability Policing Units, è un consorzio diciamo tra Arma dei Carabinieri e Dipartimento di Stato statunitense. Se vogliamo essere molto sintetici ma non particolarmente precisi potremmo dire definirlo come un centro di addestramento per polizie che devono essere impiegate per conto delle Nazioni Unite. La seconda entità che ha sede in questa caserma è la European Gendarmerie Force, è un'entità che è multirazionale che raccoglie le gendarmerie di vari paesi europei e anche qui, se posso essere molto brusco nella definizione, diciamo che è un quartiere generale che si occupa di pianificazione e condotta di operazioni di polizia da un punto di vista dell'Unione Europea. L'ultima entità a nascere è il Centro di Eccellenza della Nato per la Polizia di Stabilità, dal quale faccio parte anch'io. Queste tre entità insieme costituiscono il polo internazionale per lo stability policing. Andiamo a dare una veloce occhiata a quello che è l'organigramma del Centro di Eccellenza della Nato. Le due cose importanti che mi preve distinguere sono il direttorato che ha la gestione, la conduzione dell'entità e il supporto a quelle che sono, potremmo chiamarne le api operaie, ovvero le branche, sono quelle che lavorano sui prodotti. Se vediamo ci sono caselle con colori differenti, le caselle grigie sono pagate dalla Nazione Quadro, che abbiamo detto nel nostro esempio essere l'Italia, quindi queste posizioni vengono pagate direttamente dall'Italia, mentre le posizioni in blu entrano nel bilancio multinazionale e i vari paesi contribuiscono a seconda dei numeri posizioni che occupano. E cos'è il Centro di Cielo Enzionato per la Polizia di Stabilità? È un'entità multinazionale, ne fanno parte i nuovi paesi, militare e interforze, siamo rappresentanti di aeronautica, carabinieri, esercito e marina, e il Polo Esperti dell'Alleanza per la innovazione e la trasformazione nel suo ambito specifico, che è lo Stability Policing, la Polizia di Stabilità. Di cosa ci occupiamo? Sviluppo e revisione di concetti e di dottrina. L'addestramento sia come curriculum addestrativi, sia come corsi residenziali, virtuali o anche con team da dispiegare fuori e fuori area. E poi ci avvaliamo del ciclo delle lezioni apprese. Il Centro ha sì un sito internet, ha una posizione in Facebook, ha un account di Twitter. Che cos'è la Polizia di Stabilità? Adesso blocco un attimo e spero di riuscire a far partire il filmato. Si vede? Sì, sta partendo. Perfetto. Ora immaginiamo un paese che sia sull'orlo della guerra o in una situazione non stabile, dove la legge e l'ordine sono inesistenti. La task force della Nato interviene e i soldati della Nato cominciano a ingaggiare gli avversari e sono ben equipaggiati per questo loro ruolo per combattere questa instabilità. L'ambiente in cui opera è molto difficile. Ecco che i criminali si avvalgono di questa instabilità per dedicarsi alle loro attività e è molto difficile per la forza militare di catturare, di contrastare questi criminali. La polizia locale non è in grado di intervenire. Questa situazione si chiama security gap, il divario di sicurezza. E che cosa si può fare? Si può intervenire con la polizia di stabilità. Gli elementi della polizia di stabilità intervengono proprio per proteggere la popolazione locale, sono addestrati ed equipaggiati in maniera specifica, quindi da polizia e non da militari, non per il combattimento. E possono contribuire anche a migliorare la prestazione delle forze di polizia locali. Focalizza sulla popolazione civile e sul rafforzamento delle autorità locali per ristabilire la legge e l'ordine. Le forze di gendarmeria sono le migliori e sono quelle che meglio si adattano a queste forze di polizia di stabilità, perché hanno uno status militare e sono addestrate ed equipaggiate per fare questi compiti di polizia. Vediamo se riparte la presentazione. No, va bene, facciamo una cosa al volo. Nessun problema. Allora, che cos'è la polizia di stabilità? Innanzitutto è un concetto. Diciamo che la popolazione in questi paesi, queste aree di crisi, ha delle esigenze di sicurezza, delle esigenze che normalmente a cui viene data risposta da parte della polizia. Abbiamo visto che la polizia può essere inefficiente, può essere corrotta, può non esserci per niente. Prendiamo il caso del Kosovo, dove le forze serbe sono completamente uscite dal Kosovo lasciando quindi il paese senza una forza di polizia. Altre organizzazioni internazionali come per esempio le Nazioni Unite possono avere difficoltà a dispiegarsi in alcuni territori, potrebbero essere bloccati da un veto o potrebbero non essere abbastanza robuste, non avere queste capacità per intervenire in queste zone durante il conflitto o appena dopo il conflitto. Altre forze, forze di combattimento, diciamo, militare puro, potrebbero intervenire sia acceleramente in tutte le zone, però non hanno questa capacità di polizia, questa esperienza, questa capacità di dare risposta a queste esigenze della popolazione civile. Ecco si crea questo divario di sicurezza, da una parte l'esigenza della popolazione e non ci sono delle forze che riescono a dare una risposta. Questo divario di sicurezza si chiama appunto Security Gap e per colmare questo Security Gap che interviene la polizia di stabilità, lo Stability Policing. La polizia di stabilità è l'evoluzione delle Multinational Specialized Unit, unità multinazionali specializzate. Nella foto in alto a sinistra vedete l'ingresso del contingente. Io ero la prima Land Rover che vedete al centro dell'immagine nel 98, non ho fatto parte del contingente che ha aperto il Kosovo nel 99, però ho aperto di nuovo l'Iraq nel 2003. Lo Stability Policing non è una prerogativa solo della Nato, ma anche le Nazioni Unite, l'Unione Europea e l'Unione Africana si avvalgono di questa funzione, a volte con una non-melenclatura e con delle condizioni particolari. Diciamo che tra il 98, il primo di spiegamento dell'MSU in Bosnia, dal 98 in poi, ci sono stati alcuni fatti significativi, tra cui nel 2000 la pubblicazione del cosiddetto rapporto Brahimi che ha valutato le operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite e fatto delle raccomandazioni per evitare questi continui successi, queste missioni che non andavano bene quanto il Consiglio di Sicurezza si sarebbe aspettato. Una di queste raccomandazioni è il fatto di poter disporre di una forza di polizia robusta che potesse proteggersi e quindi anche tutelare la popolazione civile. Dal 2000 sono passati ancora 16 anni prima che la Nato pubblicasse e approvasse la pubblicazione sulla polizia di stabilità, sullo Stability Policing e ci dà anche per la prima volta una definizione all'interno della Nato di che cosa sia lo Stability Policing e qui la traduzione è mia, quindi se ci sono degli errori sono tutti miei. Per Stability Policing si intendono attività di polizia intese a rafforzare o sostituire temporaneamente la polizia locale per contribuire a ristabilire e o mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici, lo Stato di diritto e la protezione dei diritti umani. Quindi possiamo dire che ci sono due missioni principali per la Stability Policing nella Nato, la sostituzione e il rafforzamento delle forze di polizia del paese ospitante. Nella missione di sostituzione le forze di polizia locali del paese ospitante sono assenti, quindi tutte le attività di polizia sono svolte dalla forza di Stability Policing. Per quanto riguarda la missione di rafforzamento abbiamo sei attività principali. il monitoraggio, facciamo un caso dei casi pratici, il monitoraggio, il personale di SP si reca nel paese dove c'è la crisi e osserva il comportamento delle forze di polizia locale per vedere se includono i musei all'interno, nel loro piano di pattugliamento, quale obiettivo sensibile. Chiedo bene. Come mentore posso affiancare un militare o un poliziotto, meglio un poliziotto, del paese ospitante e verificare se il suo comportamento in servizio sia quello che ci si aspetta da un tutore della legge. Per esempio, se controlli che nel mercato ci sia la presenza di pezzi di antiquariato che possono avere una provenienza lecita, piuttosto che chiedere una mancetta a questi venditori perché qui chiudano occhio. Nella consulenza possiamo arrivare a livello altissimo, anche a livello di ministro degli interni, ministro della cultura, se presente, per consigliargli l'istituzione di una forza simile al comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, quindi dedicata alla tutela del patrimonio culturale. Questo naturalmente comporterà che siano applicate delle riforme. Se la forza prima non c'è, bisogna creare la struttura, quindi dal punto di vista legislativo, organizzativo, strutturale, anche dal punto di vista dei fondi e delle risorse. Istituire un corpo, un reparto come il comando carabinieri TPC, naturalmente presuppone che il personale che magari svolge già compiti di polizia sia addestrato, quindi vengono trasmesse queste nozioni per poi effettuare effettivamente questo compito. Il partenariato è la collaborazione con altre entità, a volte visto quasi come una semisostituzione, nel senso partecipo con le forze locali, facciamo le stesse cose, siamo quasi allo stesso livello. Quali sono gli attori della polizia di stabilità? Innanzitutto diciamo che l'SP è un club aperto, è aperto a tutti. Sicuramente i migliori rappresentanti di questo club sono le gendarmerie, come l'arma dei carabinieri, sono queste forze che hanno uno status militare, quindi anche un addestramento di base militare, sanno operare all'interno di uno strumento militare, che sanno rapportare con altre reparti militari, però il loro compito principale è svolgere i compiti di polizia per la popolazione civile, a favore della popolazione civile. Ecco questa dualità molto importante, la flessibilità di lavorare tra uno e l'altro. Un'altra forza che può sicuramente far parte della polizia di stabilità sono le polizie militari. Diciamo che qui già siamo più sul militare, più in senso stretto, però hanno anche delle capacità, un addestramento di polizia e quindi possono svolgere alcuni compiti. Scendendo fra virgolette ancora di livello, perché il livello di capacità di polizia, vero e proprio in senso stretto, si abbassa, ma abbiamo altre forze militari. Perché no, fare la guardia a un museo, a un sito archeologico, perché non venga saccheggiato, può essere tranquillamente fatto da una forza di fanteria piuttosto che da un reparto meccanizzato. Diciamo che anche attori non militari, come altre organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative o addirittura contrattisti civili, possono partecipare. Il principio di base è Tutti possono partecipare, chiaramente non tutti possono fare tutto. Fuori di dubbio che un reparto di fanteria, per quanto bravo, non potrà mai arrivare a svolgere delle indagini internazionali su un traffico di beni culturali, magari condotto da un'organizzazione criminale o terroristica, con riciclaggio di soldi o di denari, che poi vengono utilizzati per acquistare armi. L'importanza della tutela del patrimonio culturale. Chiedo a me. Queste lastrine le utilizzo in un modulo sulla tutela del patrimonio culturale che il centro offre qui a Vicenza e si rivolge soprattutto a militari della Nato, ma non soltanto. E quindi io cerco sempre di rendere interessante l'argomento dal punto di vista anche personale. La prima domanda è chi è questo signore? Qualcuno lo conosce? No, beh, Ahmad Al-Madi è stato condannato per crimini di guerra per avere ordinato, in quanto comandante militare, la distruzione di beni culturali a Timbuktu nel Mali. Quindi, dico sempre, signori comandanti, se voi non tutelate il patrimonio culturale, ma addirittura lo attaccate, potete essere accusati di crimini di guerra. Il caso si presenta anche un'altra faccia. Questi tre signori, anche loro sono stati condannati per il bombardamento della città vecchia di Dubrovnik nel 1991. Ecco, i due signori sulla destra sono stati condannati non per aver ordinata l'attività che era invece il signore sulla sinistra, ma per, pur sapendo che lui l'avrebbe condotta, non l'hanno impedita. Ecco che anche l'ommissione può essere fonte di una responsabilità penale per i crimini di guerra. Un altro aspetto importante è che gli attacchi al patrimonio culturale finanziano il terrorismo e gli attori irregolari. Crimina organizzata, insurgenze degli insurrezionalisti. Parliamo di terrorismo. Daesh stesso aveva una divisione delle antichità ed emetteva dei permessi di scavo. Quindi dava l'autorizzazione per scavare in cui vendeva questi permessi e lucrava anche sulla vendita di questi beni culturali. Un aspetto che mi preme moltissimo sottolineare sia per i comandanti militari ma anche per i civili che possono essere chiamati quali esperti a essere consulenti per i reparti militari o gli appartenenti a organizzazioni non governative che vanno a lavorare sul campo la tutela al patrimonio culturale può salvare le vite umane. Mi piace portare questo caso nell'Afghanistan un reparto americano arriva in una zona non conosce bene questi edifici un po' particolari invece di entrare e fra virgolette rischiare di dissacrarli contatta il Consiglio degli Anziani viene loro spiegato che c'è un tempio con una reliquia particolarmente venerata per motivi religiosi la comunità locale vi si riunisce c'è un bellissimo giardino anche il comandante militare dice benissimo noi non solo non entreremo ma noi ci impegniamo a difendere questo sito da qualsiasi attacco per tutta la durata del servizio nella zona di influenza di questo Consiglio degli Anziani questo reparto non è mai stato attaccato di contro abbiamo esperienza di casi dove parcheggiare per sbaglio un mezzo su un cumulo di sassi che non si conosce essere una tomba può portare a un aumento di ordigni esplosivi piazzati per attaccare questo reparto anche del 30% la conoscenza del patrimonio culturale è importante anche per il processo decisionale e non solo militare classico esempio che porto sempre se venite attaccati da questa zona potete rispondere e se potete in che modo potete rispondere al fuoco e lì abbiamo risposte di vario livello qualcuno pensa ma sicuramente non posso allora innanzitutto il diritto alla difesa è sempre garantito chiaramente sapendo che trattarsi di beni culturali in questo caso un cimitero ma potrebbe essere una chiesa piuttosto che una boschea magari devo attagliare la mia risposta per sì vincere l'offesa però magari cercare di preservare la struttura invece che chiamare un attacco aereo che mirada solo alla moschea cerco di utilizzare un altro approccio proprio per evitare che poi la distruzione della moschea mi crei più problemi di quelli che mi sta risolvendo un altro aspetto importante sono le cosette comunicazioni strategiche in questo caso negative stampa internazionale i militari causano grossi danni al museo sicuramente il comandante di questo reparto non sarei vista molto bene i suoi comandanti a loro volta non li hanno voluto bene d'altro canto titoli come questi che si riferiscono all'operazione unified protector in Libia nel 2011 dice ok siti culturali sono stati tutelati non sono stati bombardati dalla Nato ecco che abbiamo delle comunicazioni strategiche delle pubbliche relazioni potremmo dire positive un articolo che mi riguarda un po' più da vicino vivendo a Vicenza due articoli che porto parlano di l'esercito di Napoleone 200 anni fa è passato in Veneto e ha distrutto parecchi leoni di San Marco ancora adesso c'è polemica ancora adesso c'è parecchia rabbia per questo tipo di distruzione ecco che c'è anche una visione storica cioè la distruzione non è soltanto durata breve la tutela patrimonio culturale è importante dal punto di vista della formazione dell'addestramento vediamo alcune immagini di esercitazioni della Nato è importante da una parte la formazione delle forze Nato in modo da poter tutelare il patrimonio culturale d'altro canto la formazione delle forze del paese dove andremo a essere dislocati il patrimonio culturale è importante come risorsa economica il teatro olimpico di Vicenza dopo oltre 400 anni quando vengono i turisti a Vicenza per visitarlo questa tavoletta ha fatto nascere una diatriva un dibattito scientifico se 3700 anni fa a Babilonia ci fossero già dei rudimenti di trigonometria non vi dico subito non lo so come si è andata a finire la cosa veramente importante da riconoscere è che questo dibattito scientifico ha potuto aver luogo soltanto perché questa tavoletta è stata scavata in maniera legale seguendo metodi scientifici quindi preservando anche il contesto e non è stata scavata illegalmente da un tombarolo esportata clandestinamente da un'organizzazione criminale o terroristica per poi finire in una raccolta privata perché se questo fosse successo avremmo perso completamente questa informazione il patrimonio culturale è importante quale simbolo di identità da un'identità molto lontana come il Colosseo o l'area archeologica Nora di Sardegna però a me piace sottolineare particolarmente l'importanza del patrimonio culturale che è veramente importante per le comunità dove ci si trova ad operare come reparti militari ma anche come organizzazioni non governative la chiesa dove ci si è sposati il cimitero dove sono sepolti i propri nonni ecco c'è un rapporto molto molto personale con il patrimonio culturale in questo caso mi piace ricordare la pilavide di protezione della dottoressa Lori Rush la mia eroina archeologa americana e da decenni impegnata nella tutela patrimonio culturale all'interno dei reparti militari statunitensi ecco la parte più bassa non quella tutelata dalle grandi convenzioni dalle grandi leggi ma il patrimonio che spesso non è conosciuto che non è neanche citato nelle mappe locali per chi sta sul territorio opera nella comunità quello può essere molto più importante patrimonio culturale e beni culturali quali sono le differenze diciamo che i beni culturali sono quelli tangibili molto facilmente definibili il patrimonio culturale invece abbraccia un ambito molto più largo e comprende anche oltre a parte materiale la parte immateriale il saper cucinare un piatto piuttosto che suonare un certo tipo di strumento eseguire un certo tipo di lavoro dedicarsi a una professione anche in questo caso mi piace stuzzicare i miei i miei allievi fra virgolette e fare un po' di pubblicità al nostro bel paese quindi qui ci siamo pochi dubbi direi sul fatto che la basilica paladiana di vicenza faccia parte del patrimonio culturale quando mostro queste immagini invece qualche dubbio magari sorge diciamo ma questo che cosa è c'entra non c'entra un'altra domanda dico ma siete in operazioni militari dovete intervenire in questa zona è bellissima dice ma è piatto è rialzato è sicuro ci posso parcheggiare i miei camion a terrare con gli elicotteri qui faccio una grossa base logistica è già bello eh no dice questo veramente è un sito archeologico resti romani la popolazione austereca non sarebbe molto contenta se glielo distruggiamo questa immagine presa nell'Iraq meridionale ci fa vedere invece un altro aspetto del patrimonio culturale in questo caso non tutelato perché sono dei resti saccheggiati sono stati effettuati dei scavi legali durante uno dei corsi alla Università del Danubio di Krems è stata presentata questa fotografia e mi piace dire ma qui secondo voi che cosa vediamo a parte le bottiglie ma dice che cosa che cosa pensate possa ecco questo che potrebbe prima chiedere sembrare delle immondizie solo l'unico elemento mancante del archivio storico dei possedimenti della famiglia Estrasi fra Austria e Ungheria e abbiamo lavorato sul recupero di questo materiale un altro esempio particolare una bambola può essere una bambola patrimonio culturale un bene culturale in questo caso è stato utilizzato sempre in un evento dell'Università di Krems per simulare il recupero dopo un terremoto anzi per il recupero dopo un terremoto simulato ma certamente una bambola può essere un bene culturale perché ci parla di come giocano i bambini ma anche a che livello artistico è questa cultura che tipo di materiali utilizzano e se parliamo di materiali molto diverso un tempio messicano esposto alle intemperie da una mumia molto più delicata molto più esposta a rischi se dovesse cambiare il livello di umidità può essere attaccata da parassiti e quant'altro un altro materiale molto delicato la carta quindi gli archivi che possono essere soggetti a devastanti effetti se esposti a degli alluvioni qui abbiamo la foto del centro storico di Varsavia dopo il bombardamento nazista nella seconda guerra mondiale e questo voglio concludere con una nota positiva l'aspetto di oggi il centro di Varsavia è patrimonio dell'umanità e è stato possibile ricostruirlo fedelmente perché c'erano delle testimonianze c'erano dei progetti delle immagini che hanno consentito appunto di ricostruirlo fedelmente quindi anche queste testimonianze fanno parte del patrimonio culturale io mi fermerei qui e aprirei a domande se ce ne fossero allora perfetto allora ricordo per chi è nuovo ai webinar che avete una manina che se cliccate diventa verde vuol dire che chiedete la parola per intervenire quindi chi vuole fare un primo intervento di domande se è interessato clicchi sulla manina in modo tale che posso dargli la parola perfetto Luigi Leot Luigi attiva il microfono per cortesia Luigi Luigi devi attivare il microfono grazie prego mi sentite adesso? si tranquillo ok buonasera buonasera al relatore per la sua interessante diciamo relazione niente io lei ha un po' nominato delle forze di polizia quindi i carabinieri e anche altre forze armate e volevo giusto precisare che anche la guardia costiera italiana in particolare il personale ufficiale e sotto ufficiale delle capitanerie di porto sono ufficiali di polizia giudiziaria e anche loro fanno anche per la legge perché come ben sa la convenzione unesco del 2001 che è stata rettificata con la legge nel 2009 la 157 riconosce l'autorità marittima che appunto è la capitaneria di porti e guardia costiera come autorità competente anche alla vigilante al controllo del patrimonio culturale subacqueo quindi che riguarda appunto un patrimonio se pensiamo che il mare è estente per circa il 70% della terra che l'acqua ricopre per la maggior parte il pianeta terra e che forse dovremmo chiamare pianeta mare quindi il patrimonio culturale sommerso oltre a considerare i relitti di navi che navigano dai tempi dei babilonesi dei fenici degli egiziani dei greci e dei romani pensiamo anche ai vari approdi quindi porti naturali artificiali che i romani e così via tutte le altre civiltà hanno realizzato e quindi niente questo è un altro patrimonio che diciamo che solo di recente la normativa nazionale e internazionale sta focalizzando come patrimonio dell'umanità e quindi niente giusto il mio intervento per dire che questo è un patrimonio da tutelare da proteggere le forze di polizia in questo caso in particolare non può essere che la marina militare con funzioni di polizia giudiziaria grazie di questo suo intervento e ho voluto dare giusto un piccolo contributo per quelle che sono le mie conoscenze perché io sono un ufficiale di marina quindi della guardia costiera e mi occupo da diversi anni di questa problematica di protezione dei beni culturali sommersi e anche costieri perché anche lungo le coste non dimentichiamo che ci sono molte torri costiere di avvistamento ma anche castelli e anche i fari che sono diciamo degli ausili alla navigazione per tanti naviganti buonasera e ho finito grazie per avermi consentito di intervenire vuoi dare una risposta Stefano? non ho percepito una domanda però ringrazio perché l'argomento è molto interessante e più tardi parleremo un po' più nel dettaglio qualche foto ce l'ho anche sul patrimonio subacuo perfetto allora vediamo se c'è qualche altra domanda se no riprendiamo subito la seconda parte no al momento non vedo richieste domande ho una domanda Stefano posso farlo subito? certo volevo sapere qual è la formazione che hanno le persone che per la prima volta vanno a fare queste missioni all'estero relativamente alla problematica beni culturali oltre alla formazione ovviamente di base per quello che sono le vostre missioni di pulizia e altre cose se c'è una una parte credo dedicata soltanto a questo o imparano diciamo sul posto allora diciamo che la formazione è lasciata ai paesi quindi alle nazioni quindi ogni paese ha la sua formazione ci sono alcuni che sono più avanti per esempio come paese partner l'Austria che si è dotata di specialisti della tutela patrimonio culturale in Italia siamo fortunati che abbiamo i cravediendi del comando TPC ma anche nell'esercito ci sono ufficiali della riserva selezionata che sono stati impiegati peraltro con risultati veramente molto molto interessanti all'estero proprio per colmare delle lacune che le forze forze armate non avevano diciamo che uno degli aspetti che ci preme moltissimo al centro di eccellenza della NATO è proprio spingere sia l'argomento come conoscenza sia proprio tenere corsi quindi nei nostri corsi residenziali c'è il modulo di tutela del patrimonio culturale spesso nella fase di preparazione quindi prima del dispiego in teatro d'operazione c'è tutta la fase preparatoria dove ci sono anche dei moduli che riguardano le convenzioni internazionali e quindi anche la tutela del patrimonio culturale che comunque almeno per gli ufficiali a livello di accademia è obbligatoria spesso la parte diciamo iniziale formazione iniziale finisce poi lì ecco questa è una delle cose che volemmo cambiare e devo dire stanno cambiando le cose nella NATO ok abbiamo il signor Missaglia se vuole intervenire attivi il microfono per cortesia prego buonasera a tutti una domanda in merito al caso Almadi per intenderci che aveva citato poc'anzi le Nazioni Unite per esempio nell'operazione Minusma i propri mali hanno deciso di cogliere l'occasione e creare all'interno delle loro forze di stabilità o comunque dall'interno dell'ambito delle loro operazioni delle componenti dedicate alla tutela dei beni culturali visto che nelle precedenti missioni non sembrava essere stata mai tenuta molto da conto una seconda domanda salvo che dopo non venga ripresa più avanti come si colloca la tutela del patrimonio culturale anche nell'ambito della cooperazione civile militare ottimo allora rispondo prima alla seconda siamo all'interno della Nato fino adesso la tutela del patrimonio culturale anzi la tutela dei beni culturali perché si parla di convenzione del 54 è diciamo demandata al CIMIC quindi alla cooperazione civile militare naturalmente il centro di esigenza per la polizia di stabilità è in contatto con il centro CIMIC con cui collaboriamo abbiamo partecipato a diversi progetti comuni e ci preme di portare a galla anche l'aspetto di polizia che molto spesso negli ambienti militari viene trascurato se non completamente dimenticato per quanto riguarda invece le operazioni delle missioni dell'ONU non sono a conoscenza di diciamo assetti specializzati di tutela del patrimonio culturale devo anche dire la verità che l'ultima missione a cui ho partecipato è stata nel 2009 e quindi è da un po' che manco sono forse più orientato sul ambiente Nato ok perfetto vediamo se c'è qualche altra domanda no non vedo nessun'altra richiesta quindi direi che puoi iniziare con la seconda parte bene allora prometto che non vi tedierò con il quadro normativo è una cosa che voglio fare anche con i che faccio sempre con i miei studenti fra virgolette diciamo che il diritto umanitario internazionale ha diversi nomi a seconda del paese di cui che ne parla si rifà a parecchie convenzioni che io non cito mai perché non è non è necessario chi ha necessità di studiarle studiare li può studiare parlo brevemente dei cinque principi base del diritto umanitario e diciamo che questa sera mi preme evidenziare che due importantissime sicuramente il principio di distinzione quindi riuscire a capire la differenza fra un combattente e un civile come persona civile un obiettivo militare e un obiettivo civile soprattutto perché cercare di capire come si collocano i beni culturali tra i due e qui la questione non è sempre facilissima parlo del principio della necessità militare ovvero nel pianificare le mie operazioni devo ottenere un utile questo utile non deve essere eccessivo ma soprattutto deve avere un significato militare non posso compiere l'operazione soltanto perché mi piace o perché il ponte fra virgolette mi ha infastidito il documento base per la tutela dei beni culturali è la convenzione dell'AIDA 54 che è il primo che se ne occupa in maniera esclusiva è importante perché intanzitutto ci dà una definizione di beni culturali e anche qui le traduzioni sono mie quindi anche gli errori parliamo di beni culturali e quindi di beni mobili o immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli allora mobile per esempio un quadro bene immobile la villa la rotonda fuori Vicenza parliamo di beni culturali come edifici qui il scopo principale è di preservare di mostrare e esibire beni culturali mobili per esempio i musei capitolini a Roma o anche i centri contenenti grande quantità di beni culturali mobili o monumenti per esempio Venezia sono anche beni culturali e le opere d'arte quindi manoscritti altri oggetti di interesse artistico storico o archeologico allora in basso a destra c'è una lettera estratta e poi salvata fra virgolette dal archivio esterasi di cui vi ho accennato e poi mi piace sempre ricordare ed evidenziare che appunto ci sono anche i beni sommersi o subacquei questa fotografia e quella in alta destra sono state fatte nel 2019 quando ho frequentato un corso di archeologia subacquea al centro diving Megalellas a marine gioiosa ionica in Calabria dove ci hanno insegnato proprio ad approcciarci ai beni culturali che sono situati sott'acqua imparare a localizzarli a riferire dove sono per eventualmente contribuire a delle attività specifiche se continuiamo nella definizione che la convenzione dell'area del 54 lo dà di beni culturali troviamo le collezioni scientifiche e anche gli archivi e qui mi piace ritornare alla fotografia originale ecco anche un archivio elettronico anche un archivio digitale può essere un bene culturale talvolta può essere l'unico supporto in cui un oggetto artistico e un dato che ha importanza culturale è salvato soprattutto nella nostra era digitale naturalmente sono beni culturali i monumenti di architettura artistici o storici sia religiosi che secolari il ponte di Bassano del Palladio il duomo di Bolzano e il monumento Svergifiel in Norvegia sono anche beni culturali i gruppi di edifici di interesse storico o artistico come la zona archeologica di Montalban in Messico l'articolo 2 della stessa convenzione ci dice che cosa sia la protezione dei beni culturali e ci dà veramente pochissime informazioni ovvero ci dice si compone di due elementi la salvaguardia e il rispetto di detti beni per salvaguardia l'articolo 3 grosso modo sommariamente definito ci dice tutti quei preparativi che facciamo in tempo di pace per evitare che i beni culturali subiscono gli effetti di conflitti armati ricordiamo come se del 54 si riguarda i conflitti armati quindi fare le liste metterli in sicurezza eccetera un'attività che mi piace sempre citare è l'istituzione dell'arca della cultura a Sassocorvaro prima della scoppia della seconda guerra mondiale dove sono stati depositati beni culturali che provenivano da Venezia quindi naturalmente partivano in gondola in barca per poi giungervi a bordo di autocarri sono fierissimo di aver trovato questa fotografia che ritrae un mio collega che anni decenni prima dell'istituzione anche del comando carabinieri TPC partecipava a salvaguardare i beni culturali italiani è nell'articolo 4 che la convenzione dell'AE del 54 ci dice che cos'è il rispetto per i beni culturali ovvero l'astenersi dal uso dei beni culturali e delle loro vicinanze da qualsiasi scopo atteggiamento che potrebbe esporli a distruzione o a deterioramento e a qualsiasi atto di ostilità nei loro confronti quindi non piazzare le mie forze militari vicino a un museo vicino a uno scavo archeologico o bombardare gli stessi sono attività che sono vietate dalla convenzione dell'AE riprendiamo Unified Protector in Libia la Nato ha avuto conoscenza che gli obiettivi militari si trovavano vicino a dei resti di un forte romano invece che utilizzare solito munizionamento ha utilizzato munizionamento di precisione ecco che il sito archeologico è rimasto inalterato la parte che mi interessa moltissimo sottolineare in quanto agente di polizia la condizione dell'AE del 54 era sempre l'articolo 4 nel rispetto parla di proibire prevenire e occorrendo far cessare qualsiasi atto di furto saccheggio sottrazione di beni culturali qualsiasi atto di vandalismo questi secondo me sono compiti che sono assolutamente parlano al mio cuore di operatore di polizia qui si tratta di attività di polizia anche all'interno di un conflitto armato c'è una convenzione e i protocolli aggiuntivi istituiscono diversi simboli per specificare quali obiettivi abbiano quale tipo di protezione e ci sono altre convenzioni ricordate alcune con i loro simboli vediamo la convenzione del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo parlo brevemente della convenzione UNESCO del 1970 questa si applica anche al di fuori dei conflitti armati parla di divieto e prevenzione di import export o trasferimento illecito di beni culturali da una definizione di beni culturali diversa da quella della convenzione del 54 vi piace richiamare spesso lo statuto della corte penale internazionale proprio per ricordare ai miei comandanti militari l'aspetto crimini di guerra voglio ricordare la convenzione del 72 sul patrimonio mondiale la convenzione del 95 unità sugli beni rubati o illegalmente esportati e qui ho infilato nuovamente una mia fotografia mentre sto rilevando la posizione di alcuni simulacri sott'acqua ecco non soltanto vediamo a sinistra beni archeologici ma anche per esempio i reliti che sono già stati citati in precedenza durante la domanda fan parte del quadro normativo fra virgolette le risoluzioni dell'ONU e dell'assemblea generale dell'ONU fra cui la 2347 che è dedicata in maniera esclusiva alla tutela del patrimonio culturale la pubblicazione sulla polizia di stabilità della Nato non parla in maniera espressa di tutela patrimonio culturale è in revisione e abbiamo già fatto un commento perché venga inserita stiamo scrivendo stipulando una pubblicazione a livello tattico per la Nato materialmente sono io che la scrivo effettivamente abbiamo inserito sia l'attività di polizia della tutela patrimonio culturale sia reparti specifici che si occupano e che siano specializzate nella tutela patrimonio culturale simili ai comando carabinieri tipici la Nato nel 2000 capitato della Nato nel 2016 hanno approvato una politica sulla protezione dei civili all'interno dell'ombrello diciamo della protezione della sicurezza umana la human security e che è stata presa quale spunto per scrivere una direttiva Nato a cui ho partecipato anch'io che parla dell'implementazione della tutela dei beni culturali nelle operazioni e le missioni della Nato è un documento molto sommario che però dà indicazioni molto chiare e che adesso viene applicato e ci sono diversi diversi lavori che sono nati dall'approvazione di questa direttiva naturalmente come operatore di polizia per me le leggi applicabili del paese ospite quindi dove andiamo ad operare sono importantissime le minacce al patrimonio culturale e qui penso di non dover dire nulla ci sono le cause di forza maggiore come i terremoti abbiamo purtroppo avuto diversi casi alluvioni gli angeli del fango di Firenze del 66 naturalmente le azioni militari e un esempio drammatico alla distruzione dell'abbazia di Monte Cassino durante la scuola della guerra mondiale ma anche esempi più recenti dove a Babilonia le forze americane hanno sono stabilite con una con una base militare e hanno causato diversi danni cose che oggi giorno non farebbero più sarebbe impensabile la cosa di genere minacce antropogeniche al patrimonio culturale comprendono anche il vandalismo le attività criminali anche di tipo organizzato e transnazionale vediamo due esempi da una parte gli scavi condotti con metodo scientifico quindi ripulendo perfettamente il sito e da un'altra parte il classico tombarolo che va a assaggiare il terreno buca trova la tomba porta via quello che può distruggendo completamente il contesto e quindi rendendo inutili anche il recupero di questi di questi reperti asportati legalmente perché ormai il contesto è stato è stato distrutto un altro esempio i debiti criminali questa è una foto dell'Iraq quando ero lì stazionato nel 2003 naturalmente il terrorismo e abbiamo sentito parecchio negli ultimi anni Daesh con questo filmato dove mostra la distruzione delle statue perché secondo loro ritraggono una concezione particolare religiosa per cui non possono essere ritratte le persone e il caso particolare di Hatra dove manca stranamente è proprio questo pezzo ma spesso troviamo statue che sono mancanti della testa ecco dalla parte della narrativa la storia le pubbliche relazioni di Daesh dice dobbiamo distruggere questi idoli perché sono contrari alla nostra religione e poi stranamente il collega che è in ferie a Londra trova proprio questa questa immagine di Hatra che viene venduta in una vetrina a Londra altre minacce particolari al patrimonio culturale sono le minacce digitali posso includere gli attacchi cibernetici quindi i virus i trojans o il ransomware questi programmi collegati a un riscatto io vado a criptare i dati di un computer che potrebbe essere del direttore del museo che ha centomila pezzi e non sa più dove sono i suoi pezzi e poi gli chiedo del denaro spesso in forma virtuale per dargli la chiave per avere nuovamente accesso ai suoi dati anche gli errori tecnici e i disastri possono condurre possono minacciare il nostro patrimonio culturale spesso gli danni dell'acqua dei vigili fuoco sono più ingenti del fuoco però non si può neanche far continuare il fuoco e quindi anche queste sono minacce che possono riguardare il nostro patrimonio culturale dal punto di vista più militare si parla spesso di minaccia ibrida sono due testi qui uno di due coloneli cinesi d'altra parte la cosiddetta dottrina di Gerasimov su una guerra non lineare dove si parla fra l'altro anche di lawfare legge e warfare cioè l'utilizzo di strumenti del diritto per le azioni militari per le azioni belliche ecco in entrambi si parla anche l'utilizzo dei sistemi cibernetici per condurre la guerra e sappiamo che Daesh è stato estremamente efficiente nell'uso dei social media per creare paura nei difensori quindi avere facile accesso alle città perché ormai i difensori terrorizzati da queste immagini che vedevano sono usciti possiamo dire che la minaccia è mutata e abbiamo visto diversi esempi anche nella stampa internazionale più recenti e la minaccia è mutata anche contro il patrimonio culturale ecco entriamo nel vivo che cos'è il ruolo della stability policing nella tutela del patrimonio culturale o dei beni culturali cosa può fare la polizia di stabilità innanzitutto formazione di capacità locale è importante che i personale e i locali i civili locali possano essere messi in grado il prima possibile di tutelare i beni culturali visto che tra l'altro sono i loro beni culturali hanno importanza anche per noi ma loro hanno un interesse più diretto quando ho sentito parlare di lawfare questo concetto di utilizzare il diritto per le operazioni belliche io come poliziotto ho detto ma questa cosa di subire questi effetti a me non piace sono una persona votata più all'attacco che alla difesa e mi sono inventato questa offensive lawfare che praticamente girare questo concetto passare all'attacco fra virgolette poi ho scoperto che persone migliori di me avevano già cognato il termine civile l'affermative lawfare di cosa si tratta brevemente si tratta di un uso proattivo del diritto in guerra e come si può arrivare a questo fatto si può arrivarci tramite il legal targeting mi dispiace per questo inglesismo orrendo ho cercato di tradurlo con ingaggio legale per il quale mi sono inventato una definizione ovvero l'applicazione del diritto internazionale che abbiamo visto tutte le varie convenzioni di cui abbiamo parlato fino adesso ma anche del diritto del paese ospitante quindi del paese dove andiamo ad operare per creare effetti sul nemico o sull'avversario distinzione importante nemico diciamo dal punto di vista condotta delle operazioni militari avversario se guardiamo da un punto di vista delle condotte di operazioni di polizia chiaramente anche il criminale il criminale non è il nemico della forza di polizia è un avversario quindi è un attore nei confronti del quale si può anche considerare l'utilizzo della forza tutto questo per dire che cosa che lo stability policing può essere l'utilizzo può rappresentare può utilizzare strumenti legali internazionali o del paese abitante per creare degli effetti perché noi vogliamo sconfiggere il nemico l'avversario con altri mezzi mezzi che la forza militare normalmente non ha in questi termini la polizia di stabilità protegge i beni culturali con altri mezzi che la forza militare normalmente quali sono i compiti della polizia di stabilità sono molti diciamo qualche esempio allora operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico beh chiaramente se sono all'esterno di un archivio di stato sicuramente non lancerò dentro delle granate che possono creare un pericolo di incendio quindi dovrò ragionare in maniera diversa per tutelare i beni culturali il controllo dei confini voglio sapere chi entra chi esce ma anche che cosa entra e che cosa esce e devo anche mettere in condizioni le forze di polizia locali di fare lo stesso tipo di accertamenti se parliamo di organizzazioni internazionali che sono coinvolte in traffico di beni culturali non posso certamente mandare un poliziotto disarmato ma avrò bisogno di queste forze di polizia robuste fra virgolette per fare degli arresti sicuramente la protezione di persone e di proprietà è uno dei compiti citati nella pubblicazione sulla polizia di stabilità qualcuno potrebbe dire va bene questo è il monastero di Deciani in Kosovo che ho avuto il piacere di visitare ma questi non sono reparti di polizia in questo caso sono reparti militari che stanno facendo la guardia a questo obiettivo sensibile vediamo la differenza se difendo il ponte perché poi ci devo passare sopra con le mie armate con i miei carri armati per andare ad effettuare un attacco è un'operazione militare se invece tutelo il ponte perché non c'è la polizia locale e qualcuno potrebbe venire a danneggiarlo perché è il simbolo di una etnia o di una religione diversa ecco che si parla di polizia di stabilità un altro compito è la sicurezza dei siti ovvero fisicamente la polizia a guardia del museo nello stesso tempo come fanno in maniera egregia i colleghi dei carabinieri del TPC creare capacità locale con l'obiettivo che poi le forze locali possano tutelare possano proteggere i loro beni culturali i compiti più importanti secondo me della polizia di stabilità nella tutela del patrimonio culturale sono le indagini penali e l'intelligence di polizia quindi capire chi sono gli attori che tipi di crimini vengono commessi da chi vengono commessi con che metodi dove finiscono i soldi ricordiamoci il metodo Falcone i flussi di denaro per capire poi dove vengono anche investiti molto brevemente sulla catena criminale i ladri i tombaroli sono molti moltissimi sono nel paese di origine dove si trovano i beni culturali spesso si avvalgono fanno parte di organizzazioni criminali o anche terroristico o si appoggiano sia all'interno sia fuori dal paese e quindi a criminalità un terrorismo transnazionale per poi finire in musei galleria e nelle collezioni scusate dei privati un po' ovunque nel mondo parliamo di paese di origine paese di transito e paese di destinazione non sempre diversi però molto importante dal punto di vista della zona di polizia concentrarsi sui intermediari perché innanzitutto perché sicuramente sono criminali poi sono molto meno mentre abbiamo un cospicuo numero di attori iniziali e abbiamo potenzialmente moltissimi clienti che spesso non sanno di acquistare beni che sono frutto di attività criminali i personaggi in mezzo sono sicuramente dei criminali e sono meno riuscendo a interrompere questo flusso riusciamo a intervenire in maniera molto efficiente un esempio pratico se si trova un'autorizzazione dell'UNESCO per spostare beni culturali sappiamo che è un falso quindi dico sempre ai miei studenti bloccate informatemi chiamate la polizia chiamate la polizia di stabilità se c'è perché solo le autorità nazionali possono autorizzare il movimento dei beni culturali perquisizioni e sequeste sono un altro altri compiti specifici della polizia di stabilità e dico sempre il militare di solito cerca di armi di munizioni ordini esplosivi però spesso trova anche altro denaro stupefacenti o addirittura beni culturali è bene allargare un po' l'orizzonte non concentrarsi soltanto sull'aspetto diciamo minaccia alla forza perché magari il traffico di droga o il traffico di beni culturali è molto più importante dal punto di vista dell'operazione e dell'instabilità creata che non il possesso di uno o due Kalashnikov perquisizione sequestri anche all'aperto sequestri per esempio gli strumenti dei tombaroli vediamo alcuni esempi di saccheggio oppure sequestri all'interno questi sono sbaglio sono i miei due autisti di quando stavo in Iraq nel 2003 e diversi pezzi che sono stati recuperati tra varie attività e vari compiti c'è sicuramente la soveglianza come in questo caso con camera termica o infrarossi c'è la gestione della scena criminis e il nostro centro offre un corso di preservazione della scena criminis per evitare di inquinarla se la scena non è stata inquinata ecco che possono avvenire le attività di polizia scientifica per poi risalire agli autori chiaro che se devo analizzare dei reperti archeologici dovrò dotarmi di tecnologia particolare soprattutto di cautele particolari per evitare di distruggerli la biometria quindi utilizzare strumenti automatici per il riconoscimento delle persone per poi addivenire all'arresto per contrastare il terrorismo il crimine organizzato o anche il contrabbando anche l'assistenza a indagini su crimini di guerra e accordi internazionali in questo caso il MADI fanno parte dei compiti specifici della polizia di stabilità non c'è ancora il pattugliamento di internet ma nella pubblicazione tattica lo stiamo inserendo e parliamo anche della parte del web a cui non si può accedere con i normali motori di ricerca perché anche lì in questo deep web avvengono dei traffici e qui abbiamo alcuni esempi molto brevemente il futuro il pattugliamento si avverrà sicuramente di strumenti tecnologicamente avanzati parliamo sicuramente di indagini criminali nell'ambiente cyber cosiddetto cyberspace anche nell'ordine pubblico si utilizzerà tecnologia innovativa mi piace sempre portare ad esempio delle armi non letali ricollegandomi al cimitero che vi ho visto inizialmente se io vengo attaccato fra virgolette da un cimitero invece di chiamare la aviazione posso utilizzare armi non letali come in questo caso microonde armi e microonde per evitare che chi mi sta attaccando continui nella sua azione parliamo brevemente quali sono le sfide nella tutela del patrimonio culturale una grossa sfida è che nei monumenti nei musei ci sono grandi incertezze questa foto che ho fatto in Messico io dubito fortemente che le autorità locali sappiano esattamente conoscono esattamente ogni singolo pezzo e li abbiano registrati quando dopo la cessazione delle operazioni militari nell'aprile del 2003 il museo nazionale dell'Iraq è stato saccheggiato quando il collega del comando tutelare patrimonio culturale è entrato ha trovato delle scene incredibili dove c'erano molti pezzi ancora presenti però mancavano le informazioni mancavano gli inventari e allora la prima attività che si è dedicato è proprio creare degli inventari in modo da bloccare la situazione ed evitare che almeno i pezzi che ancora c'erano scomparissero e potessero essere poi immessi sul mercato clandestino ecco per creare un inventario si può creare la classica scheda cartacea che può essere utilizzata per i beni più importanti per l'evacuazione da un museo da una raccolta in caso di calamità però naturalmente si si avvale dello strumento informatico ci sono due applicazioni che mi piace citare la itpc sviluppata per il comando carabinieri tpc e la interpol idart è un'applicazione che è stata sviluppata di recente presentata pochi giorni fa da interpol funziona in maniera simile danno informazioni generali contatti danno la possibilità di ricercare un bene all'interno degli archivi per vedere se sono oggetto di furde se sono da ricercare e d'altro canto danno la possibilità di creare la cosiddetta object id ovvero proprio per combattere questa mancanza di informazioni io che ho un quadro in casa seguo delle indicazioni molto chiare che il programma mi fornisce dal mio telefonino faccio delle fotografie immetto dei dati molto semplici misure tipo di materiale se sono l'autore eccetera creo un'informazione virtuale che viene poi stoccata che viene registrata nel caso il mio quadro dovesse sparire un domani posso far valere le mie ragioni perché appunto sono in possesso di queste informazioni queste informazioni sono state generate un altro aspetto assolutamente fondamentale è la cooperazione internazionale anche di polizia perché perché ha visto che il traffico è internazionale non sempre ma ha moltissimi aspetti che valicano i confini nazionali è importante dare fiducia sia agli operatori di polizia ma anche delle dogane al personale in servizio di confine ai militari e alle comunità e mi riferisco alle comunità che vivono nel territorio sul territorio ma anche alla comunità dei beni culturali l'accademia i gestori di musei riassumendo molto brevemente che cosa fa la polizia di stabilità nella tutela patrimonio culturale uno si tratta di attività di polizia all'interno di una campagna militare alimentano il ciclo dell'intelligence quindi creano queste informazioni le elaborano le mettono a disposizione si parla di protezione delle forze si parla di formazione delle forze locali in modo che possano farsi carico appena possibile di questo obbligo si parla di protezione dei civili e anche di resilienza ovvero la polizia come forza di contatto tra la popolazione e le esigenze della popolazione ma anche il governo per evitare comportamenti di corruzione portare insieme queste due entità si parla di comunicazioni strategiche perché oramai viviamo in un mondo globalizzato e molto connesso la polizia di stabilità sconfigge gli avversari e i nemici e protegge i beni culturali con altri mezzi ho finito e sono pronto per le vostre domande mentre mi porrete le domande faccio scorrere qualche lastrina con degli indirizzi mail con delle pubblicazioni che possono essere trovate online e possono essere interessanti grazie ok allora chi volesse intervenire è pregato di vendenziare la manina in modo tale che gli do la parola nel frattempo è stata posta una domanda che ti vado a leggere appena riesco a rintracciare un attimo allora allora c'era il signor Spanò che era interessato a sapere ad avere maggiori dettagli su come è stato recuperato l'archivio Esterrasi se non ho pronunciato male sì Esterrasi durante i lavori di messa in sicurezza di un sottotetto era una zona a cui non avevano avuto accesso per decenni fra vari o altri materiali hanno trovato moltissime immondizie la foto che abbiamo visto noi era successiva alla prima pulizia hanno trovato questi faldoni questo materiale cartaceo inizialmente c'è stato un po' di titubanza fermi tutti quanti parliamo con l'esperto e ho detto assolutamente adesso chiamiamo personale specializzato recuperiamo tutto quanto mettiamo trasportiamo in sicurezza fra l'altro c'erano anche parecchie muffe quindi anche pericoloso da maneggiare diciamo senza uso di protezione e di mascherine è stato poi accantonato e uno o due di questi sacchi sono stati poi portati all'università di Krebs e ci abbiamo lavorato abbiamo le mani in prima persona perfetto allora attendiamo se ci sono delle domande ulteriori vedo che ci sono alcuni ragazzi del Marconi di Tortona che fanno parte di uno stage formativo che dura tre anni quindi invito i ragazzi a non avere vergogna o timidezza e se vogliono esprimere le domande le possono fare tranquillamente perché abbiamo Stefano che è sicuramente ben preparato e ha molte esperienze sulla materia anche perché essendo giovani magari domani vorranno intraprendere un mestiere analogo diciamo così quindi se ci fosse qualcuno so che c'è sempre la timidezza nel porre le domande però al momento non vedo nessuna richiesta Mirko se vuoi intervenire ulteriormente te intanto che aspettiamo sì invito ancora i ragazzi a non avere vergogna perché Stefano è stato veramente una fonte inesoribile di notizie e come io già pensavo credo che sarà il caso di invitarlo a una seconda puntata almeno dove magari ci farà entrare più dettagliatamente in quello che sono magari le differenze tra un'esperienza e un'altra negli anni potrebbe essere anche questa un'ulteriore storia che ci racconta la tua vita personale come negli anni hai visto magari devolversi una certa normativa quali sono le prospettive future abbiamo visto questo discorso molto interessante della scheda che adesso può essere anche scaricata e valorizzata quindi l'evoluzione c'è quindi io lo invito già da adesso a fare un programma per una seconda puntata forza ragazzi non siate timidi abbiamo l'occasione avanti di avere una persona e avete visto che è molto disponibile quindi porto le domande vedo che la timidezza prevale quindi ah guarda abbiamo qualcuno allora la signora Strozzi se vuole attivare il microfono può parlare buonasera salve mi sentite? sì perfetto guardi io avrei una domanda che è un po' diciamo perché stasera abbiamo sentito un dettaglio molto particolato tra l'altro complimenti per la presentazione veramente molto chiara precisa e sono rimasta colpita dagli esempi che portavano del discorso che i militari hanno hanno ormai si pongono anche a protezione delle beni culturali cosa che io sono una restauratrice quindi approvo egregiamente ma ricordo che avevo fatto uno studio sulla gestione dei disastri dal punto di vista soprattutto legale e quindi l'utilizzo anche dei militari in queste situazioni di emergenza ma nei casi in cui ci sono i conflitti armati uno degli esempi che ricordo era per esempio il discorso di Haiti che c'era lì una guerra in atto c'è stato questo grosso evento emergenziale e inizialmente le parti di guerriglie facevano fatica a collaborare a lavorare mi veniva in mente proprio questo discorso è non sempre i militari sono ben visti ecco lo so che è una domanda un po' delicata quindi come si fa da un lato si vuole proteggere ma non diventa esso stesso il fatto che i militari siano di vicino potrebbero essere comunque un richiamo insomma per scatenare qualcosa in più cioè io immagino sono sicura che questo tipo di discorso sia già stato affrontato quindi questa è la mia domanda se può dirci qualcosa in più a questo aspetto certo questa è innanzitutto una domanda interessantissima non c'è una risposta univoca chiaramente se io metto i militari a tutela a difesa del museo ecco che i militari diventano l'obiettivo in maniera di riflesso anche il museo diventa un obiettivo molto spesso i militari non sono ben visti allora forse direi due categorie ci sono ma forse anche più di due c'è la popolazione civile ci sono altri attori diciamo dell'emergenza quali anche le organizzazioni non governative e poi ci sono i cosiddetti cattivi naturalmente ognuno ha diversi interessi e si rapporta con la forza che interviene in maniera diversa con la popolazione civile è importantissimo instaurare un dialogo quindi spiegare perché si è lì spiegare perché si fanno certi tipi di attività è successo mica soltanto lontano da qui durante il terremoto il fatto che venisse tolta la statua del santo piuttosto che l'immagine devozionale dalla chiesa si dice no dovete lasciarla qui voi ce la portate via non la vedremo mai più e quindi ecco molto importante se questo devo dire forse noi carabinieri abbiamo una marcia in più rispetto ad altre forze militari soprattutto direi non nazionali perché già l'italiano di media si comporta abbastanza bene il fatto di riuscire ad aprire un dialogo con la popolazione creare questa sensazione questa fiducia questo rispetto reciproco coinvolgere anche gli anziani piuttosto che le autorità locali per spiegare guardate siete coinvolti fin dall'inizio non sparisce l'intento è tutelare eccetera se parliamo organizzazioni non governative anche qui è molto difficile a volte perché proprio per il fatto che le operazioni non governate o immunitarie devono rimanere imparziali il fatto di vedere che essere viste che collaborano con la forza militare che spesso invece è parziale perché questo è il mandato crea delle difficoltà io sono dell'opinione che la cosa più importante sia di cercare il miglior livello di interazione possibile con alcuni si può collaborare con alcuni ci si può coordinare con alcuni ci si può evitare però si cerca sempre di aprire di tenere aperta almeno una linea di comunicazione credo sia fondamentale capire quali sono gli obiettivi dell'altro per capire perché vengono posti in essere alcuni tipi di comportamenti che sembrano magari aggressivi sembrano molto in fruttura in maniera negativa la mia attività invece cercare di capire quali sono gli obiettivi si può trovare nel terreno comune per quanto riguarda invece gli attori regolari come li chiamiamo nella Nato qui effettivamente il problema è grosso il problema è grosso perché effettivamente stazionare forze militari è un problema se c'è la possibilità si possono di spiegare si può di spiegare il personale locale che si cerca di dare supporto e il massimo aiuto possibile dal punto di vista di nozioni ma anche dal punto di vista di equipaggiamento o anche soltanto informazioni il fatto di sapere che sta arrivando il reparto può metterli in condizione in condizione per me è molto importante che anche le forze locali e le popolazioni locali capiscano che noi siamo lì per dare loro una mano fra virgolette quindi questa è una una sensazione una una fiducia che si può instaurare soltanto con il tempo e soprattutto va dimostrata va dimostrata non soltanto con le parole ma anche con le azioni quindi tutto quello che faccio deve essere portato a questo a questo rinforzare questo tipo di rapporto non posso dire una cosa e poi dopo scarico bombe faccio morti non faccio attenzione purtroppo c'è da pagare un prezzo anche a livello mediatico anche in patria per dire no noi siamo lì stiamo rischiando paghiamo anche noi il tributo in modo che questa situazione si possa stabilizzare si possa uscire dall'emergenza cercare la scorciatoia bombarda soltanto con i droni piuttosto che mettere il mio personale sul territorio abbiamo visto non funziona non funziona perché proprio manca questo questo rapporto anzi si crea spesso più inimicizia di quella che invece si riesce dei risultati positivi che si escono ad avere ok allora c'era Leotta che voleva fare nuovamente un intervento Luigi buonasera di nuovo chiedo scusa prima forse non è stata chiara la mia domanda perché in effetti avevo capito in verità ho seguito la videoconferenza prima in macchina quindi non so se ero molto concentrato ma avevo capito che la forza la polizia di stabilità che diciamo un corso speciale nell'ambito della Nato era fatto di carabinieri e di alcuni ufficiali dell'esercito io quella domanda che avevo posto era questa se ne facevano parte anche i militari gli ufficiali della Marina perché i comandanti di stato maggiore sono anche comandanti di nave quindi di polizia giudiziaria oltre gli ufficiali della guardia costiera ma anche per esempio quella polizia di stato e guardia di finanza che operano come polizia giudiziaria quindi volevo sapere se nella polizia di stabilità oltre i carabinieri che sicuramente a pieno titolo ne costituiscono diciamo polizia militare ma se c'erano anche altre forze di polizia in questa polizia di stabilità grazie allora la ringrazio la ringrazio per la domanda perché mi dà l'occasione di chiarire un attimino allora tutti possono partecipare alla polizia di stabilità tutti tutte le forze io scherzando dico se un paese X ha un reparto di boy scout che possono disblocare nel territorio Y e che riesce a spiegare al direttore del museo al personale del museo come tutelare le loro opere d'arte io prenderei anche i boy scout chiaramente questa è un'esagerazione tutte le forze e non è non è necessario che siano agenti ufficiali di polizia giudiziaria perché comunque andiamo all'estero non si applica il codice penale italiano il mandato legale che hanno tutte le forze che partecipano a polizia di stabilità e quindi naturalmente anche la guardia costiera naturalmente anche la marina abbiamo visto come il reparto di fanteria può farmi la guardia al museo piuttosto che alla moschea così la capitale di porto o la guardia costiera mi può vigilare e sorvegliare l'area tipo Baia a Napoli tipo Caulon in Calabria o la zona dove ci sono sappiamo che ci sono reperti archeologici perché c'è un relitto e quindi è la zona dove il criminale locale piuttosto che il terrorista va a fare le sue emersioni per trafugare per saccheggiare beni culturali quindi non è una questione di polizia giudiziaria legge nazionale è una questione di mandato internazionale e soprattutto ci deve essere un accordo con il paese ospitante che dice ok io ho delle forze di polizia però non ce la faccio a garantire il servizio che la mia popolazione richiede o di cui ho bisogno e quindi possiamo fare un rafforzamento una sostituzione parziale oppure addirittura come in Kosovo non c'è una forza di polizia locale quindi porto dall'esterno forze che sono militari ma in alcuni casi possono essere anche civili dico ok voi adesso per mandato fate compiti di polizia all'interno di questo paese sostituite in toto la polizia locale quindi anche per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale una domanda vorrei portare invece io certo siamo un'associazione di volontariato e abbiamo come scopo la tutela e la valutazione del patrimonio culturale quale può essere il ruolo del volontariato in questo tipo di polizia nella polizia di stabilità non lo vedo impossibile ma lo vedo difficile già il fatto di tenere una serata informativa può aiutare l'ascoltatore X che domani partirà per l'estero per partecipare a missioni internazionali ma piuttosto che l'appartenente a una organizzazione non governativa a capire che magari c'è la possibilità di dialogare con queste organizzazioni internazionali anche se hanno magari uno status militare ma può essere l'esperto che viene chiamato nel caso della Libia degli esperti civili che sapevano dove erano questi siti hanno fornito i dati con le coordinate alla Nato e la Nato ha detto che in queste zone qui non possiamo utilizzare munizionamento ordinario e dobbiamo utilizzare munizionamento di precisione piuttosto che l'appartenente all'organizzazione non governativa che in Afghanistan si è fatta carica del compito di verificare le posizioni le coordinate geografiche che erano state date dei vari siti nel registro nazionale dei siti dell'UNESCO accertando che c'erano differenze anche di 4 km capite che se io sono il pianificatore della Nato oppure l'addetto a stilare le attività di bombardamento da condurre in una zona e le coordinate del sito mi date sono sbagliate di 4 km sono praticamente inutili perché giustamente non posso evitare di bombardare il sito se mi danno posizioni sbagliate e queste situazioni sono assolutamente correnti quindi sono tante possibilità di impegnarsi anche soltanto organizzando dei corsi organizzando delle serate di approfondimento per favorire la conoscenza di queste attività di questa realtà grazie allora c'è il signor Missaglia che vuole intervenire di nuovo prego signor Missaglia mi deve attivare il microfono signor Missaglia segno attiva perfetto ecco una domanda forse un po' provocatoria ma visto che i tempi forse sono maturi è possibile concepire che a breve ci sarà finalmente del personale militare o di polizia col bracciale con lo scudo blu cosa che al momento si vede solo in pochi paesi e principalmente in contesti di protezione civile quali per esempio la Svizzera ottima domanda ci stiamo lavorando ci sono tantissime attività nel settore della tutela anche all'interno delle forze militari anche su spinta della Nato il fatto di avere approvato questa direttiva dei due comandi strategici automaticamente dà segnale a tutti i paesi appartenenti alla Nato guardate che questa cosa vi sarà richiesta se fate l'esercitazione partecipate al Joint Warfare Center in Stavanger in Norvegia sappiate che vi verranno posti dei problemi di tutela patrimonio culturale ai quali è meglio che vi prepariate gli Stati Uniti per esempio hanno rivitalizzato i Monuments Men all'interno dei Civil Affairs con questa posizione G38 che sono e si tratta proprio di personale che viene addettrato in maniera specifica per tutelare il patrimonio culturale proprio perché hanno avuto delle esperienze negative sicuramente anche il progetto Nato ha aiutato ci sono molti filoni di lavoro che si stanno sviluppando per cui molti sono estremamente negativi vedono questa immane minaccia soprattutto anche dovuta alla globalizzazione al patrimonio culturale è vero è assolutamente una realtà si fa sempre troppo poco per chi è appassionato dell'argomento dice non stiamo facendo abbastanza però di conto si sta si sta muovendo moltissimo io ho tenuto un corso una lezione forse tre settimane fa all'American University of Rome dicendo che guardate anche all'interno delle organizzazioni militari di organizzazioni internazionali anche l'Unione Europea si stanno muovendo le cose cercheranno ci sarà sempre più bisogno di esperti per cui per molti che stanno studiando o studiando o hanno già compiuto studi nel settore direi cercate di rimanere collegati cercate di sapere quando si apriranno poi finalmente queste possibilità perché i progetti sono veramente molteplici quindi anche possibilità di fare un lavoro insomma visto che è un settore dove abbiamo grandissima capacità anche in Italia che spesso viene sotto impiegata insomma perfetto allora non vedo nessun'altra richiesta di interventi quindi Mirko se vuoi inserirti per la chiusura finale sì io ringrazio Stefano perché è stato competente interessante mi sono incollato al video per quest'ora e mezza che abbiamo passato insieme l'ultima domanda ha dato una risposta molto interessante molto provocatoria ai ragazzi perché in fondo si tratta anche di opportunità lavorative quindi in questi tempi credo che sia una risposta molto ad hoc perché chiudiamo un discorso culturale dando comunque quello che è una grande anche opportunità quindi ancora una volta ragazzi credete in quello che fate seguite sempre i vostri tutor abbiamo anche da oggi anche Stefano che sarà disponibile sicuramente per altre puntate quindi un grazie a Stefano che è stato bravissimo grazie a Rocco come sempre sei un ottimo regista grazie a Red per i partecipanti e buona serata a tutti a presto ancora ciao ciao buona serata e buona serata a tutti